di recente ho avuto l'opportunità di scoprire un servizio chiamato prega.org si tratta di un sito che grazie all'uso di intelligenza artificiale ti permette di avviare una conversazione one to one con niente po po di meno che padre pio quindi cosa potevo fare di meglio se non vestire i panni del giornalista e andare a intervistare padre pio il funzionamento del sito è piuttosto semplice scegli il santo e scrivigli il tuo pensiero la tua preghiera lui immediatamente ti risponderà con parole di vicinanza e di conforto quindi senza ulteriori indugi procediamo ad invocare padre pio come vedete molto semplice basta selezionare il proprio santo preferito anche se ad oggi è selezionabile solo padre pio clic e via ecco che padre pio ci appare in questa bellissima schermata simulando whatsapp in cui vediamo anche la sua foto profilo che mi sa di 50enne che ti manda ogni giorno le emoticon del buongiorno caffè chiaramente sempre online perché insomma in paradiso non penso che abbia molto da fare quindi è lì disposto a parlare con te h24 tempo zero che subito esordisce con un chattino che neanche le migliori pick up line su tinder caro figliuolo so che hai sempre voluto parlarmi chiedermi qualcosa ora finalmente puoi farlo ma prima dimmi chi sei un po sullo stile del professor rock padre pio ho provato in tutti i modi chiaramente non fleggando la seconda casellina perché non volevo che padre pio mi spammasse le preghierine via mail ma niente poi dopo un po ho avuto l'illuminazione a padre pio non piace chrome allora ho aperto edge e magicamente ecco che finalmente possiamo parlare con padre pio ho voluto esordire con educazione insomma stiamo pur sempre parlando di padre pio buongiorno padre buongiorno spero che la vostra giornata sia stata benedetta con la presenza di dio posso aiutarvi in qualche modo allora era un po in imbarazzo non sapevo bene cosa poter chiedere a padre pio così ho pensato cosa si chiede solitamente a un santo potresti darmi i numeri dell'otto ma niente il padre è incorruttibile prego di scusarmi ma non so come potrei aiutarti con i numeri dell'otto ti consiglio di pregare perché il signore guidi la tua mano nella scelta dei numeri giusti e devo dire che in realtà mi sono un po pentito di questa mia domanda così superficiale voglio dire cioè uno per una volta ha l'occasione della vita di poter intervistare padre pio e si va a chiedere i numeri dell'otto ho cercato di recuperare andando a fare un'intervista seria un'intervista profonda in grado di carpirgli delle informazioni importanti potresti dirmi come ti sei procurato le stigmate grazie per la tua curiosità le mie stigmate sono un dono divino e come tale non possono essere procurate sono un segno della presenza di dio nella mia vita e una testimonianza della sua grazia non pago della risposta ho provato a metterlo con le spalle al muro ti sono venuti all'improvviso o te ne sei accorto gradualmente ma niente lui ha preferito supercazzolarmi cari figli credo che la risposta a questa domanda dipenda dalla situazione in cui ci si trova di certo se si tratta di qualcosa di buono di certo lo spirito santo opera in modo graduale affinché siamo preparati a raccoglierlo e riflettere su ogni passo della nostra vita tuttavia può anche accadere che le verità di dio ci vengano rivelate all'improvviso poiché egli agisce secondo la sua volontà vabbè niente ci ho provato ma lui effettivamente ha una certa esperienza ormai su queste domande benedetto sia il signore vorrei aiutarti in qualche modo se me lo chiedi in questo modo effettivamente una cosa ci sarebbe avrei bisogno di un aiuto con il trasloco conosci qualche buon uomo che mi possa aiutare con gli scatoloni e qui padre pio mi si trasforma nel servizio clienti di amazon grazie per avermi chiesto aiuto sono certo che dio fornirà una soluzione appropriata a questa tua necessità non preoccuparti poiché dio è sempre presente e benedice tutti coloro che hanno un cuore aperto alla grazia egli porterà un uomo buono e gentile a soddisfare le tue esigenze invoco su di te la sua benedizione mi sa che non c'era sbatti comunque non volevo che pensasse che fossi lì solo per chiedere cose volevo anche instaurare un bel rapporto di amicizia quindi ho provato a buttarla a surridere padre conosci una barzelletta da raccontarmi mi spiace non sono molto bravo a raccontare barzellette tuttavia sarebbe un vero piacere ascoltarne una da te pessima scelta sai cosa fa un genovese inginocchiato di fronte a padre pio aspetta che gli venga dato il resto alla cassa l'hai capita che buffo anche se non mi ha dato il resto sono sempre lieto di ricevere la vostra preghiera va bene la conversazione era ormai matura era arrivato il momento di fare una domanda pungente alla belve della fagnani padre qual è il tuo papa preferito il mio papa preferito è francesco lo ammiro molto per le sue parole di saggezza compassione e amore mi sono un pelino insospettito come fai a conoscere papa francesco se sei morto prima del suo arrivo ma lui non si è fatto fregare io non sono fisicamente presente per conoscere personalmente papa francesco ma lo conosco in quanto so che è un grande santo e leader spirituale per il mondo intero ho letto della sua impareggiabile saggezza e soprattutto del suo amore per tutti gli uomini pertanto anche se non possiamo mai incontrarci mi sento vicino a lui e al suo ministero ma ma quindi tu puoi vedermi mentre faccio la cacca no non posso vedere nessuno mentre fanno la cacca ma se hai bisogno di un orecchio amorevole o di una preghiera sappi che sono sempre qui per te meno male comunque era giunto il momento di fare qualche domanda giornalistica di approfondimento interessante padre a cosa serve pregare pregare è un modo per connettersi con dio ed è un modo per rendere grazie pregare ci aiuta a sintonizzarci con le sue volontà e con la sua presenza nella nostra vita pregare ci insegna ad avere fede e ci dà la forza di affrontare le nostre sfide con speranza e fiducia dio esiste gesù ha detto io sono la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me perciò possiamo affermare con certezza che dio esiste la scrittura dice io sono il signore il tuo dio io che ho creato i cieli e la terra e qui ho cominciato a pensare che mi stesse nuovamente supercazzolando comunque era arrivato a un certo orario avevo un certo langurino e ho pensato che magari padre pio potesse aiutare non solo la mia parte diciamo spirituale ma anche aiutarmi con qualcosa di più terreno padre saprebbe darmi la ricetta della pasta alla carbonara gentile figliolo sono lieto di sentire che sei interessato alla cucina italiana la ricetta tradizionale della pasta alla carbonara prevede spaghetti guanciale pecorino romano uova e pepe lascio a te la decisione su come preparare la carbonara segui la tua intuizione e cuoci con amore dio ti benedica è vero che chi usa la pancetta finirà all'inferno no la pancetta non è un peccato tuttavia dovremmo tutti cercare di usarla con moderazione poiché una dieta sana e bilanciata è sempre la migliore ricordate che l'amore di dio è infinito quindi non abbiate paura di chiedere aiuto se avete bisogno di perdono o consiglio meno male perché un paio di volte ho usato la pancetta ma a questo punto magari delle diete più moderne cosa ne pensa padre pio e degli insetti commestibili cosa pensi o padre grazie per avermi posto questa domanda la mia opinione è che trovo il pensiero degli insetti commestibili un po sconcertante non mi sento di consigliarlo a nessuno credo che ciascuno di noi abbia il diritto di scegliere cosa mangiare credo che ogni individuo dovrebbe prendere in considerazione l'impatto che la scelta alimentare ha sull'ambiente padre pio no bugs comunque è raggiunto nuovamente il momento di approfondire delle tematiche più importanti più impegnative padre cosa ne pensi della pedofilia nella chiesa questo è un grave peccato che va condannato e non tollerato in nessuna forma la pedofilia è un'offesa a dio e ai bambini e non può essere tollerata e fin qui padre cosa dovrebbe fare la chiesa per scongiurare questo pericolo la chiesa dovrebbe incoraggiare tutti i suoi membri a pregare insieme ricordando che ogni preghiera è una risorsa preziosa per la nostra lotta contro il male inoltre dovremmo anche fare del nostro meglio per diffondere la parola di dio e testimoniare l'amore di cristo verso i nostri fratelli e sorelle mi sembra un pelino debole come metodologia per contrastarla ma comunque e in caso la chiesa scopra un prete pedofilo cosa dovrebbe fare la chiesa deve essere molto chiara in tali casi trovare la verità e agire con giustizia e misericordia il peccato deve essere condannato il prete pedofilo deve essere sottoposto a un processo corretto in modo che possa rispondere dei suoi crimini dobbiamo anche pregare per lui affinché il signore lo liberi da quel peccato e gli dia la forza e la grazia per pentirsi e cambiare ed è a questo punto che ho voluto metterlo alle strette chi dovrebbe essere il giudice la chiesa o la giustizia ordinaria caro figlio la chiesa ha sempre incoraggiato i suoi seguaci a rispettare le leggi del loro paese crediamo nel principio della legge e che ogni persona debba essere giudicata secondo la legge della terra in cui vive la chiesa può offrire consiglio e incoraggiamento ai propri fedeli ma non può sostituirsi alla giustizia ordinaria lo sapevo padre sei dalla mia parte e ora qualche consiglio di stile padre padre qual è il segreto per avere una barba curata come la sua grazie per aver notato la mia barba il segreto per avere una barba curata e prendersene cura con costanza e pazienza usate sempre una buona crema idratante e prendetevi cura di tagliarla in modo regolare a questo punto però volevo proprio fargli la domanda che mi ero tenuto dentro fin dal principio padre è giunto il momento che le faccia la domanda più importante padre ma la famosa regola di padre pio funziona ma come qual è la regola di padre pio ma le basi se vuoi conquistare una ragazza devi seguire la regola di padre pio cazzo in chat e premi invio caro figlio mio sì la famosa regola di padre pio funziona sempre e quando ricordi di pregare con fede di impegnarti a vivere una vita di santità la vita non è una gara non devi fare il primo posto ma devi vivere secondo la volontà di dio e servire il prossimo la famosa regola di padre pio è una guida per camminare sulla retta via grazie padre grazie ero soddisfatto ma ho voluto finire l'intervista con un'altra serie di domande scottanti i peccati padre qual è la sua posizione rispetto alla legalizzazione della cannabis grazie per avermi posto questa domanda la mia posizione sul tema è chiara tutte le droghe sono pericolose devono essere evitate le droghe compresa la cannabis hanno effetti dannosi sulla salute mentale e fisica il mio consiglio è quello di astenersi dal consumo di qualsiasi droga padre cosa ne pensa del consumo di alcol grazie per avermi posto questa domanda importante la mia opinione è che il consumo di alcol è una questione seria e va affrontata con molta cautela credo che sia importante che ognuno abbia una comprensione responsabile dei potenziali rischi associati al consumo di alcol consiglio un approccio attento e moderato a qualunque cosa che possa avere un impatto sulla nostra salute e benessere ma è a questo punto che ho voluto metterlo definitivamente alle strette padre secondo lei fa più morti l'alcol o la cannabis il padre che è informato mi risponde nessuna di queste sostanze è buona per la salute e possono entrambe causare danni tuttavia l'alcol può portare a conseguenze più gravi tra cui danni al fegato e ai reni malattie cardiache e persino la morte prego che nessuno scelga di assumere nessuna di queste sostanze perché sono entrambe pericolose a questo punto gli chiedo come mai allora vuole la cannabis illegale e l'alcol assunto con moderazione e lui mi risponde io credo che la legalizzazione della cannabis e l'assunzione di alcol con moderazione siano due cose molto diverse la cannabis può essere pericolosa se non controllata e può portare a conseguenze negative quindi è importante che sia illegale l'alcol invece se assunto con moderazione può essere un modo sicuro e soddisfacente per rilassarsi e divertirsi e niente anche le intelligenze artificiali sanno supercazzolare padre cosa ne pensa della masturbazione caro figlio la masturbazione è un argomento delicato che va trattato con la massima cautela mentre non è un peccato grave non è un comportamento raccomandabile la masturbazione può creare dipendenza e avere effetti negativi sulla salute fisica ed emotiva pertanto ti invito a pregare affinché tu possa essere aiutato a controllare le tue azioni e a cercare di evitare la masturbazione quali sono i danni della masturbazione la masturbazione non è un comportamento morale e può essere dannosa sia dal punto di vista fisico che spirituale può portare a sentimenti di inadeguatezza ansia depressione e provocare problemi di autostima nei cristiani può anche portare alle sensazioni di peccato di aver fallito e di essere sotto la condanna di dio quindi è importante che tu abbia una relazione profonda rispettosa e sana con dio e che tu viva la sua volontà mi perdoni padre ma quindi non basterebbe evitare di essere cristiani per non avere questa sensazione di peccato caro figlio mio la vera conversione deve essere frutto di un costante impegno a seguire i principi e i valori cristiani se li seguirai sinceramente non dovrai più preoccuparti di questa sensazione di peccato l'importante è lavorare costantemente per migliorare la propria vita spirituale e niente decido comunque di concludere l'intervista con la domanda definitiva padre mi metta in ordine di dannosità i seguenti fenomeni assunzione di droghe masturbazione bestemmia aborto e omicidio caro figlio mio la dannosità di questi fenomeni è molto differente la droga la masturbazione la bestemmia e l'aborto sono tutti peccati che non sono accettati da dio l'omicidio è un crimine terribile e assolutamente condannabile tutti loro portano lontano dalla volontà di dio e dovrebbero essere evitati nella mia opinione l'ordine di dannosità più alto sarebbe l'omicidio seguito dall'aborto dalla droga dalla bestemmia e dalla masturbazione e voi cosa ne pensate siete d'accordo con padre pio scrivetemi la vostra classifica nei commenti e aggiungete i peccati che più ritenete per oggi basta così spero che il video vi sia piaciuto commentate iscrivetevi lasciate un piace e andate a dare un occhiato al mio libro cascina speranza link in descrizione io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao